Ciao a tutti e ben ritrovati, allora oggi andremo a vedere che cose sono gli altri menu, i menu nascosti e i menu contestuali praticamente andando subito a vedere i menu nascosti, visto che abbiamo appena finito di vedere le funzionalità del menu file vedete che io ho il menu visualizza e il menu power più, quindi ci sono dei menu che non sono di default esposti su Excel se vogliamo far apparire tutti, ovviamente menu file, opzioni, come vedevamo nella precedente lezione andiamo su personalizzare la multifunzione e qua andiamo ad esempio ad attivare tutto ci dà fastidio la guida, il menu guida perché non ci interessa, tanto serve per andare di feedback alla Microsoft che magari poi non andrà neanche a vedere, lo deselezioniamo così scompare appunto dalla nostra griglia quindi eventualmente attiviamo il menu sviluppo che non è attivo e andiamo sul menu dati e attiviamo anche questo, abilite componenti, componenti aggiuntivi, analisi, serve power pivot, power view e map 3D che è un tool potente di Excel che comunque se siete alle prime armi non lo utilizzereste sicuramente nel breve periodo eventualmente se volete approfondire anche quello c'è una masterclass che spiega appunto come funziona anche questo tool all'interno del mio canale, quindi diamolo che è tutto, ecco che abbiamo i nostri menu cosa troviamo? Allora nel menu home troviamo praticamente la formatazione che possiamo andare a dare alle nostre celle quindi possiamo colorare, possiamo scrivere, poi possiamo ad esempio andare a cambiare il colore possiamo dare un bordo alla cella o dare anche un bordo più grassetto, mettere in grassetto il codice oppure possiamo andare ad esempio a giocare con la posizione del testo ad esempio lo mettiamo in centro orizzontalmente, in centro verticalmente e quindi con queste cose qua giochiamo molto con il formato che andiamo ad applicare al nostro foglio di lavoro sul menu inserisci andiamo praticamente ad inserire degli oggetti allora sono cose che poi durante il corso andremo ad approfondire perché sono veramente tanti bottoni di funzionalità di Excel questa lezione è giusto per darvi un overview generale delle funzionalità dei menu quindi ad esempio qua di interessante ci sono le illustrazioni, possiamo premere su forme e qui ad esempio possiamo andare ad inserire un oggetto, quindi lo selezioniamo e poi inseriamo l'oggetto se ad esempio tengo premuto CTRL e poi con il tasto sinistro mi sposto, duplico l'oggetto qui quando vedete che ho scritto, praticamente vedete se seleziono una cella questi sono i menu ma se seleziono l'oggetto qui compare un menu che si chiama formato forma e sono quei menu contestuali, praticamente quando noi andiamo ad inserire delle cose in base agli oggetti che andiamo ad inserire all'interno dell'Excel può essere che compaiono dei menu specifici questi menu sono specifici per il controllo dell'oggetto che abbiamo selezionato quindi quando compaiono è perché abbiamo appunto un oggetto particolare che ha un suo menu dedicato di funzionamento, ad esempio qui se selezioniamo qua possiamo ad esempio cambiare molto velocemente il colore al nostro oggetto piuttosto che gli diamo un contorno, vedete possiamo dargli un bel contorno ecco e lo definiamo meglio, quindi qua diciamo che si gioca con gli elementi ad esempio ruota, vedete ruota di 90, lo ruoto dall'altra parte, lo inverto e così via quindi qua si può proprio giocate, magari iniziate subito e cominciate a prendere confidenza con queste cose qua poi che cosa c'è? Praticamente menu disegno possiamo praticamente spotacchiare con la pena e inserire delle cose, quando io molo il mouse, ok, se mi riprendo questa cosa qua lui già riprende praticamente il disegno che ho fatto e lo ha trasformato in un oggetto se vogliamo andare a disegnare un oggetto a mano libera lo possiamo fare ovviamente con le varie tipologie di penne che ci sono, quindi a menu per giochi chiare ecco una cosa magari divertente è questo bottone qua, utilizza la pena di azione per rimettere i dati scrivendo a mano quindi io ad esempio vengo qua, ok, qui ci scrivo 86, ok, l'ho scritto con il mouse dopo un po' Excel lo riconosce, riconosce l'immagine che avete scritto e lo scrive all'interno della cella come un test quindi potete giocare su queste cose qua, io non ho mai trovato utilità però insomma è giusto sapere che esistono anche queste cosette qua poi abbiamo il layout di pagina, qui praticamente si va a configurare il layout praticamente di stampa come viene gestito il layout all'interno della nostra stampa poi lo approfondiremo più nel dettaglio nelle prossime lezioni formule, sono tutte le formule praticamente che possiamo fare con Excel, ce ne sono tantissime io personalmente non lo uso molto se non per questa parte qua, gestione i nomi che vedremo verso la fine del corso perché è una parte avanzata di formule veramente complesse che ci permettono di fare cose veramente molto potenti e questa parte qua ecco, queste due parti qua sono quelle che io più uso perché questa parte mi permette di fare dei controlli sulle formule, mi permettono di capire se faccio riferimento ad altri fogli, ad altri file, mi tira le freccette poi magari nelle prossime lezioni vedremo anche questa parte qua così mi capirete meglio comunque sono parti di analisi per le foglie, per le formule poi diciamo che qui vedete c'è appunto la barra delle formule quindi tendenzialmente si fa un uguale e qui si inizia a scrivere la formula se le sapete bene se no potete venire qua ok e aiutarvi con queste cose qua ok quando ci passate sopra ovviamente lui vi dà il significato della formula menu dati è un menu che praticamente ci permette di importare dati dall'esterno di Excel all'interno di Excel oppure magari di gestire i dati in un certo modo una cosa magari interessante di questo menu è che se io seleziono ad esempio queste colonne premendo sopra la lettera e mi sposto, premo ad esempio sulla gruppa ecco che io qui posso fare un raggruppamento delle colonne che ho selezionato vedete se magari ho l'esigenza di nasconderle per qualche motivo e posso andare a raggrupparle faccio la stessa cosa sulle righe, raggruppa poi se voglio proprio togliere il raggruppamento faccio separa oppure se ne voglio fare di due ok magari separo questo io ho qua due tipi di raggruppamento poi le seleziono, premo separa ok e qui rimane così quindi in questo caso aprire sempre quando ho fatto separa ok fate il separa revisione serve per fare della revisione al documento piuttosto che a proteggere anche il nostro documento perché noi volendo possiamo anche iniziare a lavorare però poi anche qui quando io faccio tasto destro sopra una cella comunque mi compare un menu nascosto quindi è un menu che fa riferimento al punto in cui ho premuto il tasto destro se ad esempio ci metto di nuovo un'immagine no che prima vedevamo il menu contestuale che è qua su se io faccio clic destro ok più o meno trovo le stesse cose quindi anche qua posso fare gli effetti forma vedete premo effetto forma ok mi porta sul pannellino da qua che mi permette di avere ulteriori opzioni per andare a giocare con la mia forma che alcune sono qui che sono le opzioni rapide ma poi ho appunto l'approfondimento che è qui a seconda di dove premo ok mi compaiono delle opzioni vedete ce ne sono veramente tante e ci vorrebbero delle lezioni di approfondimento per ogni pannellino che si va ad utilizzare però diciamo non spaventatevi iniziate ad usarlo premete un po' anche a caso andate un po' in tutto l'importante è sapere che se fate clic destro compare un menu di selezione qui sull'oggetto forma ad esempio c'è il formato forma dimensioni proprietà comunque vi apre vedete quando faccio dimensioni forma mi sposta su questo pannellino dimensioni proprietà mi sposta di qua se lo faccio sulla cella trovo ad esempio il formato cell perché voglio definire il contenuto della cella in numero piuttosto che in data e così via poi le approfondiremo più avanti qui la protezione appunto dicevo che se andiamo qui vedete io potrei proteggere quindi potrei dirgli guarda questa cella è nascosta piuttosto che è bloccata poi magari lo approfondiamo più avanti anche questo tema qua nel menu visualizza ecco una cosa interessante di questa cosa qua è che possiamo andare a gestirci magari lo zoom facciamo qui diciamo io voglio avere il 200% dello zoom ma posso farlo anche tenendo premuto control e andando con la rotellina indietro faccio il de zoom rotellina avanti sempre tenendo il tasto control fa lo zoom lo fa sul punto in cui ho il puntatore quindi rotellina avanti vedete va a fare lo zoom di là se lo faccio di qua va a farmelo sempre un po' più in là va bene comunque qui appunto c'è il menu della visualizzazione di come noi vediamo il nostro excel il nostro foglio di lavoro e qui c'è il menu sviluppo dove si va praticamente per la parte di sviluppo dove si va a inserire il codice visual base quindi bisogna essere un po' sviluppatori e conoscere un po' lo scripting per andare ad utilizzare questa cosa qua che è veramente molto potente il power pivot è appunto quel motore che hanno aggiunto dalla versione 2013 in poi che permette di modellare i dati e fare delle cose molto particolari bene direi che con questa lezione è tutto spero sia stata di vostro gradimento se così è lasciate un like magari iscrivetevi condividetela lo so se vi fa piacere ci vediamo alla prossima lezione in cui andremo a vedere il funzionamento della griglia di lavoro inizieremo finalmente a fare qualcosina di interessante con questo è tutto vi saluto e alla prossima lezione a presto ciao